Angelo Mantione, vicepreside del liceo Alfonso Gatto di Agropoli, lui è stato un po' il gancio, l'ideatore di questa bellissima iniziativa culturale tra Agropoli, quindi il Cilento e la Germania. Com'è nata questa idea? È nata per puro caso. Nell'estate del 2010, ma anche in primavera, per una serie di circostanze riuscimmo a iniziare un rapporto epistolare con l'attuale dirigente scolastica, che allora era semplicemente una docente della scuola di Aren, un ginnasio della bassa Sassone nel nord della Germania. A seguito di questa corrispondenza epistolare, in estate la collega venne qui ad Agropoli a trascorrere le vacanze, a quanto pare già conosceva Agropoli, e ci fu l'occasione per incontrarci assieme al preside Monaco, che ovviamente ha sponsorizzato in maniera fattiva e concreta l'iniziativa. E da lì a poco, a ottobre, ci fu il primo incontro. Noi ospitammo 15 studenti tedeschi e poi nel marzo successivo, il 2011, 15 ragazzi della nostra scuola sono andati ad Aren con l'obiettivo di creare i presupposti per una collaborazione che non fosse semplicemente di carattere linguistico, ma una collaborazione di carattere culturale, perché ritenevamo giusto che i presupposti per creare una Europa unita dovessero venire dal basso, soprattutto da queste esperienze di corrispondenza e di collaborazione e anche di confronto nella diversità tra studenti. Quanto fa bene ai ragazzi dal punto di vista scolastico vivere un'esperienza del genere? Fa bene dal punto di vista del confronto. Si confrontano mentalità, costumi, comportamenti diversi, certe volte anche oppositivi. Culture, ad esempio, alimentari, culture comportamentali diversissime. L'esperienza dell'accoglienza in famiglia è sicuramente il volano per far conoscere una realtà, un ambiente, la sua storia, la sua cultura, le sue particolarità. Poi dal punto di vista scolastico non bisogna dimenticare che la settimana in cui i ragazzi vengono ospitati a scuola è una settimana di lavoro, di studio, è una settimana di osservazione, di osservazione di comportamenti, di studi, nella quale anche noi docenti siamo i protagonisti, perché noi ci confrontiamo con sistemi scolastici che sono diversi e questo è sicuramente un motivo di arricchimento nostro e dei ragazzi. La cosa bella che io voglio sottolineare è proprio il fatto che ci sia questa possibilità di conoscerci meglio. I nostri ragazzi tedeschi vengono qua in Italia a vivere la realtà della nostra nazione e noi andiamo lì per capire meglio come funziona la loro nazione, perché l'Europa in fondo deve piano piano integrarsi, il nostro futuro è un futuro di un'Europa unita e quindi il senso di vedersi, capirsi meglio, capire quali sono le cose che ci tengono insieme e certamente è di un'educazione fondamentale per loro ma per tutti noi. È un progetto che va avanti già da qualche anno, ne siamo fieri e contenti che questo progetto continui ad andare sempre meglio, perché ci miglioriamo come sempre, come tutte le iniziative che partono in un modo, poi nel tempo si migliorano. È un interscambio culturale molto positivo per i nostri ragazzi, in quanto dal 7 al 14 quest'anno abbiamo ospiti questi ragazzi tedeschi che saranno nelle famiglie, nelle nostre famiglie e quindi avranno un contatto diretto con i nostri ragazzi. I nostri ragazzi avranno poi la possibilità a maggio di soffrire anche loro dello stesso interscambio culturale andando nelle case di questi ragazzi tedeschi dove anche lì si arricchiranno da un punto di vista non solo diciamo culturale perché potranno visitare i luoghi a loro nuovi, ma anche e soprattutto poter vivere proprio stando all'interno di queste famiglie il modo di vivere tedesco che sicuramente è diverso dal nostro, non solo le abitudini, il cibo e quant'altro. Speriamo che in questo modo porteranno in questa estate a breve anche le loro famiglie, perché no i loro amici tedeschi con le loro famiglie e quindi potremo arricchirci ulteriormente anche di questi nuovi turisti che ci potranno venire a trovare.